Mancano tre settimane alla scadenza finale del piano di salvataggio della Grecia prorogato a febbraio e a Tene presento un nuovo piano di riforme ai creditori internazionali. Il premier Tsipras spera sempre in un accordo che sblocchi la tranche di aiuti da 7,2 miliardi di euro. Le proposte sono state presentate dopo che il presidente della Commissione Europea Juncker si era lamentato del fatto che il premier greco non aveva inviato a Bruxelles il piano la scorsa settimana. Come promesso. Ho sempre cercato di trovare un accordo con la Grecia, dichiarato Juncker, e questo nell'interesse del popolo greco. Ci sono troppe persone che soffrono a causa di questa situazione. Ho cercato di costruire dei punti, ma sto ancora aspettando la risposta da parte della stessa Grecia. E alla vigilia del vertice di questo mercoledì, tra Tsipras, la Merkel, Olanda e forse lo stesso Juncker, restano diversi nodi da sciogliere. Tsipras è ottimista, ma dice no al taglio di pensioni e sussidi, come richiesto invece dai creditori. Nel nuovo piano comparirebbe invece la richiesta di trasferire i bond greci acquistati dalla BCE al Meccanismo Europeo di Stabilità. Grazie. Grazie. Grazie.